Anche le piccole collaborazioni, le collaborazioni territoriali fra enti piccoli poi portano dei grandi risultati dal punto di vista territoriale più ampio. Sì, questo è un esempio virtuoso di collaborazione con il Piemonte, con zone del Piemonte cui noi siamo legati, le vallate piemontesi del Gran Paradiso, ma anche la Valle di Lanzo con cui abbiamo dei legami storici tra messo la famiglia degli Chalans, naturalmente con il Canavesa e poi la Savoia, cui ci lega in particolare in senso simbolico il piccolo San Bernardo. Questa iniziativa rientra nella cooperazione trasfrontaliera all'interno di Alcotra, che è questo grande progetto che riunisce Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e le grandi regioni francesi con cui confiniamo, è una sorta di piccola politica estera, molto concreta, che da una parte crea e ricrea dei legami storici che abbiamo avuto in larga parte con Casa Savoia, ma in un senso moderno facendo lavorare assieme anche piccoli comuni, ma anche le regioni. Quindi ritengo che sia sempre un esempio virtuoso e il periodo di programmazione che ci porterà fino al 2027, pieno di grandi speranze e lavoreremo per questo.